Il 7 ottobre saremo in piazza per la difesa dei beni comuni, per il diritto all'acqua, per una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico e per dire no all'autonomia differenziata. Saremo in piazza perché siamo convinti che sui beni comuni si fonda il legame sociale, che l'acqua sia un diritto umano e universale, che il diritto all'acqua debba essere garantito e che l'acqua sia una risorsa rinnovabile e non infinita che va sottratta alle logiche di mercato, salvaguardata e utilizzata secondo principi di solidarietà. La gestione del servizio idrico deve essere realizzata senza finalità lucrative, attraverso modelli di gestione pubblica. Inoltre l'ambiente e gli ecosistemi devono essere tutelati. E infine saremo in piazza perché siamo convinti che siano necessarie politiche e azioni efficaci volte al contrasto dei cambiamenti climatici. Inoltre siamo consapevoli che tutte le proposte in essere relative all'attuazione dell'autonomia differenziata renderebbero impraticabile la realizzazione di questi principi e quindi per questo saremo in piazza. Lo saremo anche per dire no alla guerra e perché vogliamo reali ed efficaci politiche di pace. Per questo invitiamo tutti e tutti a scendere in piazza il 7 ottobre a Roma.